Buonasera, buonasera ascoltatori di Radio Geronimo. Ciao pubblico di History Teller. Siamo tornati con un'altra trasmissione, con un'altra puntata. Questa sera parleremo di tre storie. Quindi, questa sera vi racconterò tre storie. Tre storie che hanno un unico comune punto di convergenza, come un flusso comunicativo energetico in un paradosso spazio-temporale. E di paradosso si tratta, perché malgrado, come comprenderai più avanti, queste tre storie parlano di universi così complessi e così separati che di più non potrebbero, in realtà hanno poi un momento in cui la loro morale, la loro energia storica, la loro essenza filosofica e filologica si uniscono in un unicum pressoché perfetto. Ti anticipo che questo è un tema che mi sta particolarmente a cuore e comprenderai quindi perché questa sera ho scelto queste tre storie e quale morale ci sta dietro. Ovvio, ognuno poi trarrà da sé le sue conclusioni, ma in buona sostanza il trait d'union, il fil rouge che le unisce, è assolutamente indivisibile. Allora ti chiedo di scatenare il potere della tua immaginazione. Se vuoi puoi chiudere gli occhi e immaginare. Già, come diceva Eugenio Finardi in una sua famosissima canzone, la radio si può scrivere, leggere o cucinare. Non c'è da stare immobili sedutili a guardare e forse è proprio quello che me la fa preferire e che con la radio non si smette di pensare. Bene, chiudi gli occhi. Vorrei che immaginassi una foto. Una foto in bianco e nero. Una di quelle dei nonni con il margine bianco tutto dentellato, con la dicitura dello studio fotografico in piccolo davanti o in grande sul retro. La foto è tutta sbiadita, forse anche un po' bruciacchiata, perché questa foto giunge a noi attraverso una, magari due guerre, sopravvissuta ai bombardamenti e agli incendi. La foto ritrae nove ragazzi. Sono vestiti come nel film Gangs of New York di Scorsese e forse è proprio da lì che viene questa foto. Hanno dei visi duri, da adulti, da bambini divenuti ragazzi divenuti adulti troppo in fretta. Hanno in testa un berretto stile coppola, messo dritto o di sghimbescio. Hanno i visi sporchi di fuligine o di carbone o chissà di cosa altro. Hanno le espressioni spavalde, irridenti, quasi come a dire che osserva. Cazzo guardi, problemi? Hanno fular e sciarpe al collo e chi non può permettersele ha un maglione a giro collo, strappato e sporco pure quello. Indossano abiti di quattro, anche cinque taglie più grandi, che pendono dalle spalle come un appendia abiti. Fanno probabilmente parte di una gang minorile di fine ottocento, primi del novecento. Sarà così? Ma può darsi. Quello che conta è che questi ragazzi sono stati definiti i più violenti, i più bassi, i più sporchi, i più spreggevoli e ancora, aperte virgolette, sono di gran lunga peggiori dei negri e più insopportabili dei polacchi. Chiuse virgolette. Queste frasi sono state dette dal sindaco di New Orleans, niente meno, nel 1891 e avevano per oggetto degli italiani. Sì, quei ragazzi cresciuti troppo in fretta, questi di questa foto, erano degli italiani. Ecco, io mi chiedo cosa avrebbero detto questi nove italiani se avessero detto loro che un giorno dei loro compatrioti, dei loro deputati, dei loro senatori, si sono astenuti e a quanto so se la stanno ancora tirando in lungo tra mille innumerevoli e spiegabili cavilli, riguarda una questione riguardante l'istituzione di una commissione sull'odio razziale. Pochi popoli sulla terra sono stati oggetto di angherie e di odio razziale come noi. Ricorderete la storia che vi ho raccontato un po' di tempo fa riguardo lo sporco lurido sudicio negro e la sua presunta, ma molto presunta amante, che non era americana, bensì italiana, perciò noi italiani siamo negri per lo stato dell'Alabama. Quindi, se c'è qualcuno che non può permettersi di indugiare su questioni di odio razziale, siamo proprio noi. Tutto questo però non deve stupire. Non deve stupire perché noi viviamo in un'epoca nella quale, pur di marcare la differenza col passato, pur di dire che siamo nuovi, pur di dire che siamo cambiati, siamo disposti a risumare il peggio del passato. E chi se ne frega se è un peggio tossico, se è un peggio violento, se è un peggio che uccide, non importa. Lo prendiamo come esempio e come modello perché non è quello di chi ci ha preceduto. E allora, questa sera, mi voglio unire anch'io al coro che ho appena narrato. E anche se in ritardo di 22 giorni, un ritardo tutto sommato perdonabile, se me lo concedi, un ritardo comprensibile, beh, questa sera voglio celebrare il compleanno di un signore che oggi, nel 2019, 22 giorni fa, avrebbe compiuto 122 anni. E lo voglio chiamare come merita, cioè papà, perché è, papà, della parte più deplorevole della politica moderna. Perciò voglio fare tanti auguri di buon compleanno al ministro della propaganda del Terzo Reich, Joseph Goebbels. E voglio ringraziarlo. Voglio dirgli grazie Goebbels perché ci hai lasciato in eredità un sacco di bei pacchi dono. Ti dico grazie perché tu ci hai dimostrato, caro Joseph, che con tutta la tua carriera politica che si può fare carriera politica interramente con le balle. Tu, ad esempio, caro Joseph, eri affetto da bambino da una malattia che ti ha reso zoppo. E quando ti sei presentato all'esercito per essere arruolato, ti hanno rifiutato perché eri invalido. Eppure, per tutta la vita, hai fatto credere di essere eroi di guerra. Tu in guerra non c'eri mai andato e hai dato a bere a tutti che eri zoppo perché qualcuno ti aveva colpito sul campo di battaglia. Balle. Tu sei uno che nell'ambito della sua carriera politica è stato filo comunista, filo socialista, filo cristiano e poi anticomunista, antisocialista, anticristiano. Ti sei laureato con due professori ebrei di cui cantavi le lodi e poi sei diventato il principale megafono di tutta la propaganda anti-ebraica. Tu ti sei laureato in letteratura, Goebbels, e poi sei passato alla storia per quello che ha bruciato i libri in piazza. Tu ci hai dimostrato con delle frasi incredibili che eri candidato davvero a diventare il nostro papà. Come quando, per esempio, Hitler ti mandò a Berlino per fare un lavoro importante e cito testualmente, prendimi la rossa Berlino. E tu andasti lì. E tutto quello che hai fatto sintonava su una sola frase che hai detto, che è impressionante per come noi l'abbiamo sviluppata. Cioè, tu dicesti, in politica non servono discorsi, servono le frasi. Tu che inventasti il simbolo numero uno della politica moderna, tutto incentrato in quella frase. Se una bugia viene detta una sola volta, rimane una bugia. Se viene ripetuta cento, mille volte, diventa una verità. E quindi ti inventasti un sacco di ritornelli che oggi noi, per comodità, chiamiamo slogan del tipo... Tu parlasti, ad esempio, delle orde asiatiche che stavano invadendo la Germania. Noi oggi parliamo delle orde africane che stanno invadendo l'Europa. Tu dicesti, noi adesso faremo la Germania grande. Qualcuno, recentemente, ci ha vinto le elezioni e ci governa con We Will Make America Great Again. Noi abbiamo imparato tutto da te, Papa Goebbels. E abbiamo imparato soprattutto una cosa. Abbiamo imparato, come tu dicesti, che la politica non è fatta per guardarsi indietro, per guardare alla storia, per guardare alle elezioni della storia, ma è fatta per guardare e far guardare insistentemente e solamente al qui e adesso. E noi viviamo in questo eterno qui e adesso, in questo eterno magnifico presente, senza mai avere il coraggio di guardarci alle spalle, senza avere mai il coraggio di dire che abbiamo una cultura, una letteratura, dei libri. Anzi, come tu dicesti, i libri servono soltanto a confermare ciò che il presente chiede. Se invece il passato i libri lo mettono in dubbio, allora è bene inventarci che sono antinazionali e candidarli al rogo oppure alla pattumiera. Ecco, io questa sera, idealmente, getterò in un immaginario rogo dei libri, perché voglio farti vedere quanto ho capito la tua rezione, caro Goebbels. Anche noi dobbiamo fare piazza pulita della cultura e della letteratura. Quello che già sta facendo certa televisione spazzatura, io lo completo questa sera con questo atto simbolico. Ecco qua. Noi a scuola ancora ci intestardiamo a far leggere la Divina Commedia, cioè l'opera di uno che arriva a dire che l'Italia non è signora dei popoli, ma bordello. Solo per questo, ecco, Dante, opla, nel rogo. Ecco qui, abbiamo ora il Decamerone di Giovanni Boccaccio, uno che ci ha dipinti al mondo per quello che non siamo, cioè pronti soltanto a ridere, fatto di ladri, di truffatori, di gente che fra scherzi e Lazio rimedia la giornata. E allora ecco, anche il boccaccio, alè, nel rogo. No, Ludovico Ariosto, l'Orlando Furioso, cioè la storia di una principessa bellissima, angelica, che corteggiata da tutti i cavalieri cristiani che le sbavavano dietro, chi sceglie? Il musulmano. E allora via, nel rogo. Abbiamo i promessi sposi e quale orrore nello scoprire che l'autore è uno che scrive un ode sulla morte di Napoleone Bonaparte. Via, nel rogo. Uh, uh, il foscolo, il foscolo. Il foscolo manco era italiano. Questo aveva la mamma greca, è nato in Grecia ed è morto a Londra. Ecco, solo per questo vai nel rogo pure tu. Via. E infine eccolo qua, il mostro, l'ubriacone, il gobbo, leopardi, cioè il rachitico marchigiano che si inventa sul costume degli italiani e ne dice di cotte di crude su chi siamo e non dovremmo essere. Vai, nel rogo pure tu. Brucia. Come vedi, caro Goebbels, ho imparato perfettamente la lezione e finalmente adesso, senza passato, senza libri e senza senso critico, siamo tutti pronti anche noi a diventare quello che tu volevi, cioè un popolo di perfetti imbecilli pronti a gridare in piazza dietro al primo cretino che urla più forte di tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.